Qual è il tuo ruolo nell'organizzazione del team? Sono il coordinatore di partecipanti, che è la persona in charge di mantenere in contatto con i partecipanti e prendere il processo di selezione. E sono il treasurer, che è il servizio del servizio e sono la persona in charge del balance e del money. E perché la fia è così alta? Perché sono un gruppo che è un grant che è un grant dell'European Galford, che è un grant del Consiglio dell'Europa. E perché le persone devono attendere questo seminario? Perché non possiamo vivere nel 21 secolo se stiamo usando i luoghi dell'18 secolo. Dobbiamo cambiare, bisogna cambiare lo stesso possibile, possibili ora. E spero che i geografi possano prendere un grande ruolo in questo cambiamento. Grazie.